Questo governo come quelli precedenti evidentemente considera l'attività dei teatri e dei cinema o come estremamente pericolosa o come estremamente inutile e probabilmente poiché i fatti dimostrano per quel breve periodo in cui siamo stati aperti che pericolosi non siamo evidentemente dobbiamo acquisire la consapevolezza che siamo considerati meno utili di tutte le altre attività. E' la rabbia dei lavoratori del mondo dello spettacolo, settore flagellato dalla pandemia di coronavirus. Si era infatti parlato di poter riaprire i sipari il 27 marzo ma il sogno rapidamente è sfumato. Il weekend appena trascorso non è stato infatti quello dei primi spettacoli ma i palcoscenici anche ad Arezzo sono rimasti vuoti a causa della zona rossa. Probabilmente nessuno aveva creduto a questa riapertura del 27 marzo, d'altra parte anche pensare che un teatro o un cinema possano riaprire vincolati al colore della regione, programmare una rassegna degli spettacoli non è come aprire un negozio, devi contattare la compagnia, devi fare la promozione, devi vendere i biglietti in prevendita perché ovviamente ci sono da rispettare le regole della sicurezza e poi il cambio del colore della regione da una settimana all'altra potrebbe rendere tutto vano. Si prolunga così l'attesa non solo degli spettatori ma anche dei tanti lavoratori del mondo dello spettacolo. Centinaia di lavori che sono totalmente senza lavoro e senza stipendio in un lavoro che non è solo un lavoro è qualcosa di più quindi è davvero una mancanza e essere fuori dal lavoro da un anno mette tutti questo tipo di lavoratori in una condizione non solo economica ma anche psicologica preoccupante. Nonostante la pandemia e la chiusura forzata ormai da un anno c'è chi comunque non si è reso e ha deciso di reinventarsi. Noi abbiamo fatto al Teatro Verdi una intera rassegna di teatro in streaming, di teatro appositamente pensato per lo streaming e come officine della cultura abbiamo anche prodotto il nostro ultimo spettacolo in arte Son Quixotte che è uno spettacolo appunto con un pensiero, con una poetica teatrale ma fatto, pensato per essere fruito in digitale. Quindi come dire ci stiamo organizzando anche nella sperimentazione di un nuovo linguaggio che è quello del teatro digitale ovviamente sperando al più presto di tornare in sala con il pubblico.